Noi leggeremo l'ultima storia per chi la vuole ascoltare e poi con i genitori che sono arrivati dopo, se volete, possiamo dire perché siamo qui e raccontarvi un po' del progetto Nati per Leggere. Allora, chiudo io con una storia, forse anche questa. Di un pezzione e di un pezzione. Esattamente, questa è la storia che capisco che Leo conosce, è di un pesce grande e di un pesce piccolo perché capisco che la conosce, perché qui c'è solo il pesce piccolo e quindi quello grande evidentemente l'ha visto dentro, no? Quindi sono molto, io ho mentito, pazzesco, no? E comunque è una storia che racconta effettivamente di un pesce di un pesce di uno e di un cappello che però non è il suo. Infatti il titolo di questo libro è che questo non è il mio cappello. Siamo in fondo al mare Ci sono le alghe del fondo marino Dove abitano i nostri protagonisti Questo non è il mio cappello Questo non è il mio cappello L'ho appena rubato L'ho rubato Ad un grosso pescione E' una balena Era addormentato quando l'ho fatto E probabilmente Non si sveglierà per un bel tempo E anche se si sveglia Probabilmente non noterà Che il cappello non c'è più E anche se si accorge Che il cappello è scomparso Probabilmente non scoprirà Che sono stato io a prenderlo Guarda che torno E anche se indovina che sono stato io Quella blu è la bandiera La bandiera Quella blu è la bandiera L'ultima fase L'ultima fase Ma a voi lo posso dire Sto andando dove le piante crescono più grandi Più alte e più fitte E' davvero difficile vedere qualcosa di dentro Così nessuno Li troverà mai A dire il vero c'è qualcuno che mi ha visto Ma ha detto Che non rivelerà mai Da che parte sono andato A nessuno A nessuno Perciò Perciò Quello non mi preoccupa E qui Lo so E' sbagliato Non è roba mia Ma ormai ho deciso di tenerlo E poi In ogni caso Era troppo piccolo Per quel pescione E a me i receni Sta piantissamente Eccomi Ce l'ho fatta Dove le piante crescono più grandi Più alte E più fitte Sapevo che ce l'avevi fatta Aiuto E vedi Qui Nessuno Mi troverà mai Ti ho mangiato Lo ho trovato Lo ho trovato